Porta la tua attività sulla più grande web tv della provincia di Pavia. Mezzo milione di persone hanno guardato JAPTV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart tv a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot.japtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. Proprio in questi giorni abbiamo parlato della partenza della ventesima edizione di Porta Porta, il programma di Bruno Vespa che già sta facendo discutere. La partecipazione della figlia e del nipote dei Casamonica, il famoso clan Sinti al centro delle cronache nelle ultime settimane, ha scatenato una polemica infuocata. Il vice sindaco della capitale si augura che qualcuno abbia il buon gusto di chiedere scusa alla città, ai romani e a tutti i cittadini. Ma insomma, lei crede che ospitare vera Vittorino Casamonica in seconda strada su Rai 1 sia stata una scelta sgradevole oppure non si sente offesa? Secondo me è stata un po' una cosa sbagliata farlo, cioè si dà ancora più visibilità di quella che dovrebbero avere. Quindi sarebbe meglio dar loro meno visibilità? Sì. Come mai? Perché già hanno modo di essere immischiati dappertutto e essere anche immischiati ad avere ancora più visibilità così, secondo me è sbagliato. Infatti il sindaco addirittura ha detto che c'è il rischio che la mafia si trasformi in un fenomeno folcloristico, sei d'accordo? Sì. Bruno Vespa si è difeso dicendo, lasciateci fare il nostro mestiere, sono due persone incensurate che possono portare una testimonianza importante. Ma quanto il diritto di cronaca può giustificare la presenza di queste persone in un programma televisivo? Fino a che punto? Secondo me fino a livelli di rispetto per quelli che magari hanno avuto delle brutte esperienze per quanto riguarda la mafia. Quindi anche per una questione di rispetto tu dici sarebbe meglio non invitarli? A primo impatto così direi che mi risulterebbe sgradevole pensare che persone appartenenti a un'associazione delinquere che quindi hanno sempre portato avanti uno stile di vita di questo tipo debbano anche essere chiamati in programmi televisivi a esprimersi davanti a un pubblico che magari vorrebbe vedere queste persone in altri posti, non in programmi televisivi magari dietro alle sbarre. Tu dici il dovere di cronaca prevale fino a un certo punto, cioè queste persone non dovrebbero avere questo tipo di visibilità? Non dico questo, sicuramente hanno diritto di esprimere la propria parola al pubblico, però certamente quando tu sei di fronte comunque a queste persone sei anche conscio di chi sono e di quello che hanno fatto. È come se si accettasse un certo stato, una certa situazione e si andasse avanti nonostante bisognasse fare qualcosa per risolvere problemi di questo tipo. Io non ho visto questa trasmissione, però è certo che è una cosa che non ritengo molto giusta, anche il funerale, tutto ciò come si è svolto, tutte le varie cose, sono cose che bisognerebbe prevenirle e non farle fare, perché secondo me è un po' troppo sfacciata la cosa, nel senso che tutte le cose, un po' di pudore, un po' di vergogna, un po' di buonsenso, bisognerebbe adoperarlo. Vespa si è difeso dicendo che questo è comunque diritto e dovere di cronaca, informazione. In tutte le cose bisogna avere un po' di buonsenso e un po' di limite, e a volte il diritto di cronaca supera il buonsenso secondo me, di esagerare non è mai una cosa fatta bene.